salta sulle stelle mamma mia che giocatrice intelligente la scavalca che quella polla va sotto rete non ti fredda e tira la sabbia addosso da Susi vai 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 brava braaaava Susi ha detto la rugga e si tira un po' di sabbia mentre è in campo che ha bisogno di hai bisogno di chiudere il poli della pelle e fare i massaggi occhio che passa, occhio che passa no la ricorsa al contrario non cadrà mai no la ricorsa al contrario non cadrà mai no la ricorsa giusta è punto oh no io 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 uno due uno due si buona, buona, buona brava, molto bello questo polpa attacco se era fuori l'hai mascherato bene era fuori boh girano tutto, girano tutto gioca a 300 di gente bene attacco che io ora ho iniziato chiamato in classe è , in casa in classe in classe in classe si, così, vuole vedere chi ha cantato pesante fa saparà? esatto, quel braccio è quel peto che ho fatto lasciato male come che l'hai chiamato? quel peto come sei? non lo fanno per scivolare bene eh a breve acqua cima da sola c'è la terza italica avanti sei parte di quella eh ecco mi ci voglio aver 65 oh la spiller non credeva nella tua possanza fisica ahahahah ma perchè hai gioco? eeeh mi salta mi salta un mio eri con l'ombelico sulla rete sembravi Bauer eeeh la Zanini ha sbloccato il bancaio dell'ex rotazione su, si, devasta esatto, piano lì su quella geografia che si voltava brutta stronza godo non ci sono meritava mai a questo punto non ci sono meritava mai a questo punto ci sono le fughe di gas dal campo ah perchè c'è un giacimento di metano qua sotto la spiller è abbonata non passare la rete eh lo spiller sembri la fedrigo porca puttana no c'è l'euro extra ti alza tutti i palloni fa bene non mi permetterei mai io di fare una cosa di dire 4-12 12-4 no 4-12 4-12 ok vale è cambiato niente mi piace che le somme insomma no fate 14 invece che 12 chiara non è un problema se vuoi fare tutto è il gas che le sta dando la testa dai dai ma sale bene è la mia giocatrice di punta cazzo io cinque tre falso avanti io in finale bella palla fuori 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 buongiorno fuori 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 Allora, cerco di sabotarti, io te lo dico, devi fare tutto da sola perché. Sì, io, 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 salta e mi soppla la rete. Sì, tranquilla. Grazie a tutti. Sì, sì, simile. Sì. Bello, no? Piacevole. È calda adesso. Sì. Ormai il domino è una palla bagnata. Sì, sì. Sì, tra 18 minuti. Quasi 19. C'è la fuoco. Stiamo saltando con i bracci qua. Eh. Muovi i piedi e scoprilo invece di ruotare su te stessa allora. C'è inutile che vinci il Gotham e poi fai ste robe. Di qua, di qua, di qua. Spiller, vai. Previnci la Zanini, tanto per cambiare. Brava Elena! Brava Elena! Brava Elena! Ma la faccia che mi ha già bagnato prima. Quella che ne mai bagnate palligio. Le mette due. Non è andata più indicata, vabbè. Ma... Perché il suo clima è umido e piovoso. Il suo clima è un clima. 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 Il suo clima è un clima.